Hanno sfondato una finestra per tentare di rubare all'interno di una villetta di San Giustino Valdarno, ma sono stati fermati dai carabinieri e per la banda di topi d'appartamento, due uomini e tre donne, tutti con un lungo curriculum criminale per reati contro il patrimonio alle spalle, dalla rapina al furto aggravato, sono scattate le manette. L'attività dei malviventi, arrivati dal Lazio in Toscana per mettere a segno alcuni colpi, è stata infatti sventata dall'intervento dei militari, dopo che alcuni cittadini, insospettiti dalla presenza di una Fiat croma grigia, avevano chiamato la centrale operativa della compagnia di San Giovanni, segnalando il tentativo di un furto. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno accertato il tentativo della banda di introdursi all'interno della villetta, dopo aver mandato in frantumi con arnesi da scasso una porta finestra. Dopo aver raccolto la descrizione dei ladri e dell'auto con la quale erano fuggiti, i militari hanno diramato le ricerche a tutte le pattuglie. L'aliquota radiomobile ha così intercettato la Fiat croma con a bordo le cinque persone. I ladri però hanno ignorato l'alta e si sono diretti verso Terra Nuova Bracciolini. Ne è nato così un inseguimento terminato alle porte della città. I due uomini hanno anche tentato la fuga a piedi, ma sono stati subito bloccati ed arrestati in flagranza di reatro. I cinque adesso dovranno rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Oltre agli strumenti da scasso, i carabinieri hanno sequestrato un marsupio, una borsa ed un orologio da taschino con ogni probabilità a provento dei precedenti furti in abitazione. Sono infatti attualmente in corso ulteriori accertamenti investigativi per verificare se la banda nei giorni precedenti avesse portato a termine altri colpi.